Ciao amici di Hellas Live, io sono Mario Orler, presidente del Comitato Iniziative Turistiche e Culturali di Mezzano di Primiero. Anche quest'anno per il secondo anno consecutivo abbiamo il piacere di avere ospiti qui da noi e la squadra dell'Ellas Verona che si trova a 200 metri da noi nel campo sportivo intercomunale di Mezzano. Approfitto dell'occasione per presentarvi un attimo quelli che saranno gli eventi che da oggi partiranno in onore della Sagra dei Carmeni che si svolgerà a Mezzano nei prossimi giorni. Iniziano quindi questa sera i festeggiamenti, avremo qui sul palco la Music Academy International di New York che farà il Broadway Gala in occasione della prima serata qui nella piazza. Domani sera invece, sabato 14, avremo un grandissimo concerto di una band spettacolare che sono i Credence Clearwater Revival. Questa band è una band americana, per chi li conosce sicuramente li conoscete, sono gli unici veri eredi dei Credence Clearwater Revival. Questa sera, sabato sera, si esibiranno qui nella piazza sul nostro palco con un concerto veramente speciale. Quindi sabato sera, dopo l'amichevole che si terrà al campo sportivo, vi invitiamo tutti qui in piazza Brolo per assistere a questo spettacolo. Per la giornata di domenica invece, oltre alla messa e alla processione, che c'è la parte religiosa della nostra sagra, diciamo, avremo nella serata di domenica un grandissimo concerto con una band veronese, la Diapason Band, che è un tributo a Vasco Rossi ormai dai primi anni Ottanta e è una delle migliori tribute band di Vasco nel panorama qui del Nord Italia. Ospite speciale, con loro suonerà Maurizio Sollieri, quindi anche quella sera non potete mancare, ma dovete essere qui davanti a lui a cantare le canzoni di Vasco. La festa prosegue il lunedì, avremo molto intrattenimento anche il lunedì. Si parte già la mattina con il Giro delle Bocce, tradizionale. Ormai abbiamo la sfida tra i due cantoni del paese, Canton Pranovi e Grisoni. Si proseguirà con il mago Agide Cervi, direttamente da Rai 2, un nostro ormai amico qua dei Mezzano, per finire poi in bellezza alle ore 22 con il Paglio degli Asini, che è una spettacolare gara, una sfida tra questi Asini che rappresentano i paesi del Primiero. Prima della sfilata, prima della gara, ci sarà la sfilata accompagnata dalla banda musicale di Primiero, dagli sbandieratori del quartiere Portoria di Feltre e naturalmente dalla squadra dell'Ellas Verona, che ci aiuterà a presentare questa serata. Grazie a tutti, vi aspetto domani sera, domenica sera e lunedì per i grandi eventi. Grazie a tutti.